L'estate in blu di Biceglie si prepara a vivere il suo apice a partire dai prossimi giorni. Il cartellone estivo cittadino ha già messo in mostra ospiti di rilievo, ma la programmazione organizzata fino a settembre regalerà ancora momenti di spettacolo, solidarietà ed intrattenimento. La nuova fase del calendario di appuntamenti è stata presentata presso Biceglie a Prodi, sulla darsena del porto turistico. L'obiettivo è quello di valorizzare però non soltanto questo periodo, ma di realizzare un programma che possa essere stabile e rappresentativo della città di Biceglie e contribuire adesso a giornalizzare la nostra offerta turistica. Quest'anno una delle chicche, non posso dimenticarla, è quella del concerto di Achille e Lauro qui a Biceglie l'8 agosto che chiaramente poi completerà questa offerta culturale di eventi già molto 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 rilevante dal punto di vista ovviamente del coinvolgimento e anche ovviamente del livello molto qualificato delle manifestazioni. Cultura, musica e arte per catalizzare l'attenzione del pubblico, ma anche enogastronomia, sport e tradizioni radicate nel territorio bicegliese. L'estate in blu è pronta per il suo picco tra luglio, agosto e settembre. Sicuramente non potevamo, abbiamo pensato un programma che andasse incontro a tutti i gusti che potesse abbracciare un pubblico davvero ampio, per cui si va dalla danza al teatro alla musica ma tutto sotto, seguendo un fil rouge che è quello proprio dell'accessibilità, che non è solo abbattimento di barriere, di artite toni, che non è solo abbattimento dei costi, dei prezzi, del biglietto, ma anche accessibilità, rendere accessibile la cultura a tutti.